Victor Hugo Victor Marie Hugo, 1802-1885 Scrittore, poeta, drammaturgo e politico francese, saggista, aforista, artista visivo, statista e attivista per i diritti umani, in L'ARPA e la LIRA dice Disgraziato, ahimè, chi non avrà amato che dei corpi, delle forme, delle apparenze. La morte gli toglierà tutto. Cercate di amare delle anime, le ritroverete sempre. Commento La vita fisica, per quello che veramente è, è un tragitto che conduce a considerarci sempre più delle anime e, solo temporaneamente, dei corpi. Cercate di amare delle anime, Grazie a tutti.